Molti anni fa lavoravo come mercenario per un uomo molto pericoloso. Quando decisi di abbandonarlo per cambiare radicalmente la mia vita, tutte le persone a me più care ne pagarono le conseguenze. Ora l'unica ragione per cui continuo a vivere è uccidere sbrodi. Signor Sbrodi, abbiamo un problema. Che tipo di problema? Teoron è sopravvissuto. Perché stai qui? Tienes che insegnarmi a ser Helmherr un giardone. Perché? Per eliminare alguno su paraxita. Más rapido! Más rapido! Presto verrà a prenderci, non se lo faremo prima noi. Niente di si siete! È un funcidio, devi nasconderti. Quando arriverà noi saremo pronti. Ti insegnerei a essere immensivi, ma in tuo corazon hai todavía oscuridato. Lo sai che dovrò ucciderti, vero? L'unica cosa che può uccidermi sono io. Ero contento di vederci. Tra poco non lo sarei più. Potrebbe essere l'ultima volta che ci vediamo? Potrebbe. No permites quell'odio ti rendersi a morirassi. Tu ci hai tradito. Pagherai il frazzo delle tue azioni. Questo mondo non è abbastanza per te. Questo mondo ha portato via tutto ciò che avete. Quell'uomo merita la sua tendenza. E noi... Noi meritiamo di morire.